Allora, benvenute e benvenuti a questa importante presentazione inserita all'interno delle serie delle segnature dell'Accademia degli Incei sul cartello Croce Gentile. Desidero innanzitutto ringraziare per la sua presenza il Ministro San Giuliano, le autorità e quanti hanno reso possibile la realizzazione del carteggio e questo pomeriggio. Innanzitutto la Fondazione Croce e Benedetta Craveri, la Fondazione Archivio Gentile della Sapienza Università di Roma e Sebastiano Gentile, tutti quelli che hanno permesso la ricomposizione del carteggio fra i due più rilevanti intellettuali italiani della prima metà del Novecento. Alda Croce, Piero Craveri e la famiglia Gentile, il nostro consocio Natalino Irti, non a caso autore della prefazione al primo volume di tutto il carteggio, Gennaro Sasso, cui si deve nello stesso volume una limpidissima e bellissima introduzione. Ultime, ma non ultime, le curatrici del carteggio dei volumi, alla cui edizione hanno atteso per dieci anni, dal 2014 fino ad oggi. Cinzia Caetani e Cecilia Castellani. E desidero ringraziare anche l'editore Aragno, che purtroppo non ha potuto essere presente, ma a cui dobbiamo questa splendida edizione. L'elenco dovrebbe ancora allungarsi, poiché molti sono stati coloro che hanno aiutato a ricomporre filologicamente la corrispondenza dei due filosofi che hanno occupato centralmente la scena culturale e politica italiana per mezzo secolo. Un evento del genere ha richiesto la collaborazione di tanti, anche dell'opera di chi aveva curato le edizioni provvisorie e separate della corrispondenza fra i due filosofi. La presentazione del volume, il volume conclusivo del carteggio e tutto il resto, costituisce senza dubbio un evento di carattere, come si dice, epocale, a non voler esagerare, anche se è un aggettivo che spesso si spreca in casi del genere. Che la ricomposizione completa dei documenti epistolari di una grande amicizia e corrispondenza, interrotta nell'ottobre del 1924, tre mesi dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti, venga celebrata cento anni dopo all'Accademia Nazionale dei Lincei, rifondata da Benedetto Croce dopo la guerra e dopo la soppressione dell'Accademia stessa operata dal governo fascista, è motivo non solo di grande orgoglio, ma assume, credo, anche un forte valore simbolico nell'anniversario anche della morte di uno dei protagonisti, Giovanni Gentile. Dire altro sul carteggio delle sue vicende e del suo senso, in presenza dei protagonisti e dei massimi studiosi dell'argomento, sarebbe fuori luogo. Vi ringrazio ancora per la vostra presenza e do la parola al Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, per il suo saluto. Prego. Buonasera a tutti. Gentile Presidente, illustri professori e membri dell'Accademia dei Lincei, gentili signore e signori. Ho accolto con grande piacere l'invito del Professor Roberto Antonelli, Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, a portare i saluti istituzionali in questo incontro dedicato alla pubblicazione ormai finalmente conclusa del col quinto volume del carteggio tra Benedetto Croce e Giovanni Gentile, curato come i precedenti da Cinzia Cassani e Cecilia Castellani. Testimonianza chiave per cogliere e studiare i passaggi cruciali della storia culturale del Novecento italiano e direi anche europeo. Non tocca a me, lo faranno gli autorevoli studiosi che sono qui presenti e che sono i massimi esperti della materia, inoltrarmi nell'analisi del volume appena pubblicato in due tomi e nelle molte dense riflessioni che il carteggio ha restituito filologicamente e che sollecita. Mi sta a cuore però almeno poter considerare il valore complessivo per l'intensità filosofica e per la qualità notevolissima di questo lavoro. Sono 2.164 lettere e il grande racconto di un'amicizia, di un dialogo fervido che copre un arco temporale circoscritto ma decisivo della storia nazionale. La crisi di fine secolo, il sogno del primo Novecento, del partito degli intellettuali, la grande guerra che travolge e ridisegna la società italiana, evento che, data la partecipazione di entrambi alla vita della nazione, si intrecciò con quello della loro riflessione e della loro opera, investendo anche il versante politico. Anni densi dunque, dei quali, come si evince dal carteggio, i due filosofi che erano stati amici e sodali di battaglie culturali in nome della rinascita del legalismo, passano dal dissenso filosofico irriducibile a quello apertamente politico. Il dialogo di cui si erano intimamente nutriti per lungo tempo si consuma nella comunicazione quotidiana fino a spegnersi lentamente. L'ultimo scambio di lettere è dell'ottobre del 1924, quasi cento anni fa, e l'intonazione è ancora affettuosa, «Malgrado tutto io sarò sempre il tuo Giovanni» e la lettera di Croce è ancora diretta al caro Giovanni. Anni fa avevo letto le lettere di Giovanni Gentile e Benedetto Croce, edite dalla Sansoni. Domenica mi sono chiuso in casa per preparare questo breve intervento, erano due volumi bianchi, le ho ripresi dalla mia libreria, e poi successivamente il volume edito da Mondadori a cura di Alda Croce con le lettere di Benedetto Croce a Giovanni Gentile, e con l'introduzione del professor Gennaro Sasso, che già nelle prime righe scrive di lettere intense e profonde, e che hanno dato vita a polemiche e dissensi, indiscrezioni e sospetti. Peraltro in queste lettere, oggi finalmente restituite alla forma reale della corrispondenza, oltre alla disputa filosofica e politica, come non cogliere anche un profondo tratto umano, fatto di sentimenti, della memoria di un'antica amicizia e del tratto di strada fatto insieme. Quel dialogo così alto e sincero che deve farci riflettere. L'incontro con Benedetto Croce, di nove anni più anziano di lui, ha segnato la vicenda non solo culturale di Giovanni Gentile, e viceversa anche quella di Croce, nella sua inquietudine, aveva bisogno di ripensarsi alla luce dell'energia teoretica dell'altro. Insieme hanno dato vita a un sodalizio efficace e capace di esercitare un'influenza significativa sulla cultura italiana, rindovandola sia attraverso le loro opere, sia nei progetti editoriali con le collane La Terziana degli scrittori d'Italia, dei classici della filosofia moderna e dei filosofi antichi e medievali, insieme alla rivista La Critica, che recupera un titolo tanto caro a Kant come a De Santis, vero asse del progetto di riforma della cultura italiana, sostenuto dai due intellettuali. Il valore delle loro riflessioni è tale da influenzare anche il dibattito intellettuale europeo. Ha scritto il professor Cacciari, il saggio di Croce, materialismo storico ed economia marxistica, e quello di Gentile la filosofia di Marx, inaugurano il nuovo secolo, vengono letti da tutta Europa, Lenin sima il saggio di Gentile. Io mi sono occupato della vita di Lenin e avevo citato questa riflessione. Il quadro può forse essere utilmente completato da altri due carteggi, che mi piace richiamare, anche per le mie attitudini, quello tra Benedetto Croce e Giuseppe Prezzolini, curato in due volumi da Emma Gianmattei, qui presente, per le edizioni Storia e Letteratura, e quello tra Giovanni Gentile e Giuseppe Prezzolini, curato da Alessandra Tarquini, che reca in appendice due scritti che vale la pena ricordare. Perché il duello fra Croce e Gentile, che è il titolo di una conferenza che Prezzolini tenne a Milano negli anni 70, è vita drammatica di Giovanni Gentile. Noto, in maniera curiosa, che i rapporti epistolari tra Croce e Gentile si interrompono nel 1924. Quelli, invece, tra Prezzolini, che vivevano negli Stati Uniti d'America, a New York, vanno avanti con Gentile fino al 1940 e fino al 1945 con Benedetto Croce. Ed è curioso e divertente, è un episodio che si è verificato agli inizi del Novecento, quando il filosofo Donato Iaia, maestro di Gentile, nel leggere Leonardo, si era convinto che dietro gli pseudonimi di Gianfalco e Giuliano il Sofista si celassero Benedetto Croce e Giovanni Gentile. Così non era, perché erano gli pseudonimi di Papini e di Giuseppe Prezzolini, che dette nome a suo figlio Giuliano, proprio in memoria di questo episodio. E come spiegò Giovanni Gentile, sono molti vicini a noi, nemici dei nostri nemici. Surtutto è certo da ricordare il volume del 2016 dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, che io ho più volte citato, pubblicato sotto la direzione del professor Michele Ciliberto, a cui faccio pubblicamente i complimenti per quel enorme e gigantesco lavoro, dal titolo Croce Gentile, la cultura italiana e l'Europa. L'ultimo scambio di lettere è del 1924. Nell'aprile del 1925 Gentile si fa promotore del Manifesto degli intellettuali fascisti, a quale Croce risponde nel maggio successivo con il Manifesto degli intellettuali antifascisti. La rottura è irrimediabile, profonda, radicale. Il merito di Croce è di essersi fatto paladino di democrazia e di aver elevato la voce contro il fascismo che stava togliendo la libertà agli italiani. Gentile commette l'errore di sostenere l'azione tragica di Mussolini, anche se nel 1929 esce dal Gran Consiglio del Fascismo e non ha un ruolo politico di primo piano, mentre in privato si spende per proteggere intellettuali antifascisti e di religione ebraica. Mi colpì molto in tal senso un assaggio di lettere fra Gentile e il filologo ebreo Oscar Christeller, tra l'altro anche lui legato a Pressolini, fornitomi dal saggio il carteggio gentile Christeller tra studi umanistici e leggi razziali, pubblicato nel 2015 sul giornale critico della filosofia italiano. Tutto il resto è vicenda nota e storia italiana da tutti tragicamente conosciuta. Non si può tacere che la presentazione di questo carteggio, qui nella più alta dimensione degli studi, avviene a poco più di un mese dall'ottantesimo anniversario dell'assassinio di Giovanni Gentile, evento tragico che sconvolse Croce, che nei tacquini di lavoro testimonia il pianto di Angelina, la moglie, ricordando l'amico di famiglia e il tempo dell'intimità familiare. Le figure di Benedetto Croce e Giovanni Gentile dunque si stagliano nella loro concordia discourse con sempre maggior rilievo nella storia italiana del Novecento e di questo nostro secolo, soprattutto per il ruolo che assunselo nel grande transito verso la modernità e per la lunga gittata delle loro elaborazioni. Vorrei concludere con un'altra citazione, io le vado prendendo random qui e là e quella del professore Alberto Asorrosa mi è molto piaciuta. Il grande tema della riforma intellettuale e morale da De Santis, Croce, Gentile, Gramsci ma anche al loro modo Mosca, Pareto e sindacalisti rivoluzionari si impone come un protagonista ineliminabile della nuova identità italiana. Grazie della vostra attenzione. Grazie per questo saluto molto impegnato e ampio. Chiedo ora al professor Natalino Irti dell'Accademia dei Lincei e uno dei promotori della ricomposizione dell'Epistolario di intervenire sul titolo Cronaca dell'edizione. No, non ti metto, è qui. Se d'utile, la torulezza dei presenti. L'edizione unitaria del carteggio ha conosciuto le elogoranti attese del tempo. Sono passati venti anni o poco più dal primo colloquio che ebbi con Altacroce intorno a un tema così intimo e tormentoso e dieci anni dall'8 dicembre 2014 quando in un mondano circolo torinese fu presentato il primo tomo dell'Epistolario racchiudente le lettere scambiate fra il 1896 e il 1900 forse può giovare a nuovi ascoltatori e lettori che si raccolga in linee a sai sobie la cronaca di questa edizione. La vicenda ha inizio più lontano nel tempo il 1949 Ugo Spirito riordinando l'archivio della fondazione Gentile rinviene le lettere indirizzate da Benedetto Croce a Giovanni Gentile ed egli subito ne coglie la straordinaria importanza nella storia della filosofia e nella transizione dal positivismo all'idealismo anzi aggiungeva mi accorsi in modo sempre più palese dell'influsso decisivo avuto dal pensiero di Gentile su quello di Croce e dalla necessità di invertire il giudizio corrente di un Gentile all'undo di Croce nell'opposto giudizio di un Croce allievo di Gentile nel novembre 1949 Spirito indirizza una lettera aperta a Benedetto Croce chiedendo di essere autorizzato a pubblicare le lettere Croce risponde in una dura postilla pubblicata in un fascicolo dei quaderni della critica rifiuta lo spettegolamento e soprattutto sottolinea che i conti del dare e dell'avere nel culto della verità gli sono sempre sembrati avvilenti stupidi e ridicoli e tali che uomini poco fini ignari come sono degli intimi e delicati processi delle anime possono farne oggetto delle loro congetture e discussioni e deduzioni in aria quindi la risposta all'appello editoriale di Ugo Spirito è dunque un fermo di nego mancato il croce del 1952 diffidenze e sospetti agitarono i rapporti tra la famiglia gentile e la famiglia croce la distanza del tempo la generale nuova situazione del nostro paese non aveva addolcito gli animi né stemperato le memorie nel 1969 Benedetto Gentile compie un gesto di audace illegalità e pubblica sulla rivista sul giornale critico della filosofia italiana cento lettere circa di croce a Gentile seguono diffide e intimazioni della famiglia ma il gesto di Benedetto Gentile servì a mettere il campo a rumore e indusse le due famiglie ad un accordo gennaio 1970 ad un accordo che mi piace di narrarvi non con una mia sintesi che sciuperebbe il carattere tra familiare e burocratico ma addirittura con la deliberazione assunta dal continuo di amministrazione dell'università la sapienza allora unica università romana il tenore del verbale è questo un tenore vocativo di soggetti di eventi e anche del lungo cammino percorso da questa edizione con lettera in data 20 novembre 69 il comitato scientifico della fondazione gentile composta dal professor Gospito dal professor Guido Calogero dal professor Franco Lombardi e dal rappresentante degli eredi gentile signor ben detto gentile ha trasmesso a questa università un testo di convenzione da stipularsi tra le eredi del senatore Benedetto Croce rappresentati da Renato Barone di Livei gli eredi del senatore Giovanni Gentile più o meno il medesimo tenore si rinviene in tutta la deliberazione che prevede uno scambio di microfilm registranti le lettere di Croce Gentile e le lettere di Gentile a Croce si giunge così alla separazione delle lettere veramente un profilo storicamente importante che le lettere e dunque i documenti di un dialogo tra due grandi filosofi hanno luoghi diversi l'uno Sanzoni e poi saranno le lettere e le altre mondadori curate da Altacroce e preceduto da illuminanti pagine di Gennaro Sasso e fu davvero una soluzione in attesa che vedeva disiunti i due momenti di un dialogo nel quale ciascuno dei filosofi attendeva la replica immediata dell'altro come si è giunti alla edizione unitaria qui il discorso deve assumere un tono per così dire autobiografico che mi regga qualche fastidio e disagio ma tuttavia è indispensabile fra il 2002 e il 2003 come presidente dell'istituto italiano per gli studi storici chiesi un colloquio con Altacroce io ho narrato altrove il clima di questo colloquio che era il salotto di Casacroce immerso nella penombra le stampe antiche ed anche lo sguardo scutatore e sinuoso di Donna Alda e proposi a Donna Alda di consentire la pubblicazione unitaria del carteggio Croce la terza allora l'atteggiamento della famiglia Croce verso la terza era piuttosto riservato e poi la pacificante edizione unitaria del carteggio Croce Gentile Donna Alda mi rispose un immediato sì alla proposta Croce e la terza ma invece un più cauto e incerto sì alla proposta del carteggio unitario Croce Gentile ma questo bastò per risvegliare il problema far sentire l'esigenza e sollecitare l'impegno assiduo e persuasivo di Piero Claveri e Marta Erling da un lato e di Sebastiano Gentile dal lato si pervenne così il 20 marzo 2012 a 42 anni dall'accordo del 1970 a una nuova convenzione mi si è consentito di dire da me redatta in un solo foglio dove Piero Claveri e Sebastiano Gentile al nome delle due famiglie consentivano una edizione unitaria del carteggio dove trovare l'editore ci rivolgemmo a editori che avanzavano gravose pretese economiche quando all'orizzonte apparve Nino Aragno Nino Aragno mi dispiace che non sia oggi tra di noi in questa festosa e meditativa cerimonia Nino Aragno è un avveduto e sobrio imprenditore è un mecenate dalla larga cultura e avverte spiritualmente la storia del nostro paese e Nino Aragno assunse la responsabilità della edizione avendo accanto a sé le ottime studiose Cinzia Cassani e Cecilia Castellani come curatrici il comitato scientifico era composto da Gennaro Sasso da Piero Claveri e da Sebastiano Gentile poi ed è conclusivo della mia testimonianza autobiografica vi fu un ulteriore accordo del luglio 2013 che strinse nella impresa di istituti italiani di istituti storici le due fondazioni di famiglia le curatrici e Nino Aragno questa è la storia esterna dell'opera che oggi abbiamo dinanzi a noi una impresa davvero formidabile e imponente come come mi scrisse in una lettera del 17 giugno 2014 il presidente della repubblica Giorgio Napolitano che onorò di molteplici visite l'istituto italiano per gli studi storici e seguì con amichevole attenzione l'edizione unitaria del carteggio mi si consenta da ultimo di esprimere il compiaciuto orgoglio di aver messo a disposizione degli studi con l'ausilio di compagni di fede e Piero Craveri è vivente nella nostra grata e commossa memoria di aver messo a disposizione un altro e prestigioso documento della cultura italiana un documento paragonabile forse paragonabile al carteggio che si svolse tra Federico Schiller e Wolfgang Goethe e Wolfgang Goethe scriveva l'interlocutore in una lettera del 7 aprile 1798 delle parole che oggi risuonano nel profondo del nostro animo abbiamo tutte le ragioni per essere contetti nei nostri rapporti perché malgrado la nostra lunga separazione ci sentiamo più vicini che mai e l'opposizione dei nostri temperamenti rende più desiderabile quella influenza reciproca da cui possiamo per l'avvenire riprometterci il meglio vi ringrazio vi ringrazio d'oro la parola Benedetta Craveri prego signor ministro illustre presidente dell'accademia dell'incei autorità gentili colleghi signore e signori desidero innanzitutto come presidente della fondazione biblioteca Benedetto Croce ringraziare il ministro san giuliano per la sua partecipazione a un avvenimento per noi così importante come l'uscita del quinto e ultimo volume che conclude la pubblicazione del carteggio Croce Gentile e ringraziare il presidente Antonelli per aver voluto che fosse l'accademia dell'incei a tracciare un primo bilancio delle lo ha ricordato il professor Irti delle 2164 lettere scambiate tra i due filosofi nei 28 anni che vanno dal 1896 al 1924 lettere che costituiscono lo è stato già detto certamente una delle più importanti corrispondenze del novecento italiano grazie anche al professor Irti presidente dell'istituto di studi storici che ha ricostruito da par suo il lungo e complesso antefatto storico giuridico e affettivo che ha preceduto questa edizione dove lui stesso ha avuto un ruolo importante a cominciare dalla scelta dell'editore Aragno editore a cui va il nostro grazie per avere accettato di farsi carico di un'impresa tanto impegnativa e averlo svolto e portata a termine in modo impeccabile il professor il professor il professor Irti ha ricordato il ruolo fondamentale avuto da Piero Craveri nella pubblicazione di questo carteggio e vorrei sottolinearlo anche io visto che purtroppo mio fratello non è più con noi per prendere lui stesso la parola è stato infatti Piero per primo a volere e a perseguire caparbiamente il progetto di una nuova edizione del carteggio in cui riunire in un'unica sequenza le lettere di Croce Gentile già apparso come è stato detto in due edizioni separate fu Piero a convincere di questa necessità nostra zia Alda Croce curatrice dell'edizione delle lettere del padre a Gentile e restia a riaffrontare un problema che aveva avuto i suoi momenti difficili e proprio l'altro giorno Sebastiano Gentile mi ricordava l'emozione e la gioia che aveva provato quando era stato raggiunto in vacanza da una telefonata di Piero che gli chiedeva a sorpresa cosa ne diresti di una nuova edizione unitaria del carteggio Croce Gentile ma quello che mi preme di dire qui è che a animare Piero non è stata solo la sua responsabilità di nipote di Croce e di presidente della fondazione di cui Croce porta il nome responsabilità che peraltro avvertiva vivamente ma la sua passione di storico e di studioso quale quale gli era della cultura della politica dell'istituzione italiana del novecento e infatti in primo luogo come storico che Piero ritene indispensabile che lettori interessati a ricostruire le varie fasi del dialogo epistolare dei due filosofi potessero disporre di un'edizione che lo restituisse nella sua interezza senza dover ricorrere a continui e faticosi raffronti fra l'edizione delle lettere di Gentile e l'edizione delle lettere di Croce purtroppo dopo aver eseguito passo passo il work in progress del carteggio Piero non ha potuto vedere l'uscita del suo ultimo volume e venirne oggi a parlare come avrebbe fatto con ben altra autorità e competenza della mia ha fatto però in tempo a firmare con Sebastiano Gentile la nota introduttiva che ci ricorda quanto questa importante iniziativa gli sia debitrice consentitemi ancora due parole sulle caratteristiche e sulla novità di questa nuova edizione Ragno frutto della stretta collaborazione fra la Fondazione Croce e la Fondazione Gentile sotto la direzione del professor Gennaro Sasso Cecilia Castellani della Fondazione Gentile ha svolto egregiamente il delicato compito di ricostruire nella sua esatta sequenza cronologica e nella sua completezza il dialogo epistolare fra i due filosofi verificandone l'esattezza testuale su incarico della Fondazione Croce Cinzia Cassani ha dal canto suo provveduto coadiuvata da Teresa Leo a dotare il carteggio di un vasto apparato di note che costituisce per i lettori una fonte di informazione preziosissima su avvenimenti personaggi pubblicazioni a cui i due filosofi fanno riferimento a volte in maniera sommaria o criptica nel corso del loro lungo impegno le curatrici hanno infatti saputo fare tesoro dell'enorme lavoro di schedatura degli archivi dei due filosofi realizzato negli ultimi decenni e di cui le edizioni precedenti non avevano potuto beneficare così per quanto riguarda soprattutto Croce ma di riflesso anche gentile la pubblicazione dei taccini di lavoro ha portato una nuova miniera di informazioni come pure la progressiva imponente pubblicazione dei carteggi crociani e gentiliani ancora in corso d'opera fra cui mi limito a ricordare quello di Croce con la terza consentitemi dunque di esprimere al professor Sasso e alle brevissime curatrici la riconoscenza e il plauso di tutti noi grazie prego ora Sebastiano Gentile di prendere la parola ecco vorrei innanzitutto ringraziare l'Accademia dell'Incei il presidente Antonelli per questa presentazione il ministro per la sua presenza qui oggi e tutti i numerosi numerose persone che sono convenute oggi qui vorrei anche ringraziare quelle persone quelle istituzioni che hanno contribuito in varie forme tra il 2011 e oggi alla pubblicazione di questi splendidi volumi a iniziare le due curatrici anticipo che ripeterò alcune delle cose già dette ripetita io lo faccio un ripasso in certi casi a iniziare le due curatrici Cecilia Castellani e Cinza Cassani che hanno compiuto un lavoro egregio sostenuto da passione costanza e competenza poi Gennaro Sasso con il suo sostegno e con il suo impegno continuo nella risoluzione di mille dubbi e difficoltà legate all'edizione senza dimenticare il contributo iniziale di Emma Campochiaro e della Biblioteca del Senato a cui si deve tra l'altro la scannerizzazione e una prima revisione del testo delle lettere e l'editore Niran Agno che ricordo rispose con grande entusiasmo quando gli chiesi eravamo in rapporti per altre cose all'epoca si era disposto a pubblicare questo carteggio e ovviamente Natalino Irti anche egli entusiasta promotore dell'impresa nonché Marta Erling e l'Istituto Italiano per gli Studi Storici che ha sovvenzionato la ricerca delle due curatrici con delle diciamo borse di studio ed infine Eugenio Gaudio presidente della Fondazione Sapienza che non ha mai mancato di dare il suo sostegno all'iniziativa nonché a garantire il funzionamento dell'archivio gentile Lascio per ultimo Piero Craveri perché volevo ricordare quanto ha ricordato prima Benedetta cioè la sua telefonata nell'estate del 2011 che mi sorprese e mi commosse cioè l'annuncio la richiesta se ero d'accordo a procedere alla pubblicazione del carteggio unitario Croce Gentile che ovviamente mi trovò entusiasta e questo lo ricordo con grande affetto e è veramente un peccato che oggi Piero Craveri non possa essere qui con noi ecco l'intima soddisfazione che provo nel vedere stampato il carteggio la commozione confesso che mi ha preso nello sfogliare l'ultimo volume derivano anche se non principalmente da ricordo di quella che definirei la preistoria che ha già tracciato Natalino Irti da par suo di questa edizione preistoria che vide coinvolto in prima persona mio padre Benedetto Gentile che le dedicò a un capitolo del suo libro di memorie ricordi e affetti mio padre dal 1954 anno della donazione all'università di Roma la sapienza dell'archivio della biblioteca di Gentile sino al 1998 anno della sua morte fu colui che più di ogni altro si preoccupò della sopravvivenza della fondazione e assieme al fratello Federico della pubblicazione delle opere di Gentile queste ultime sono ormai giunte al completamento del piano editoriale a suo tempo previsto una settantina di volumi editi da prima dalla Sanzoni e poi dalle lettere con altro ancora oggi in cantiere per esempio i non trascurabili carteggi Gentile Cristeller e Gentile Barbie ma un desiderio che mio padre fortemente sentì senza riuscire a realizzarlo fu proprio quello di vedere pubblicato il carteggio con Croce che considerava essenziale per una corretta comprensione del complesso rapporto tra i due filosofi l'esigenza di pubblicare questo carteggio risale a tempi remoti già ricordati da Natalia di unirti cioè la lettera aperta di Ugo Spirito sul giornale critico della filosofia italiana del 1950 ma la lettera dell'anno precedente chiedendo a Croce che consentisse una pubblicazione anche parziale e magari da lui stesso curata delle lettere una proposta molto probabilmente prematura anzi senz'altro prematura poi del tutto vanificata da una disposizione testamentaria dello stesso Croce che esprimeva il desiderio che tutto il suo archivio restasse chiuso per venti anni dopo la sua morte ma si continuò a sperare la pubblicazione del carteggio la auspicò Guido Calogero con un intervento al convegno genovese del 1964 si cercò di trovare un'intesa in una situazione che vedeva le lettere di Croce al momento non accessibili la lettere di Gentile al momento non accessibile nell'archivio Croce e quelle di Croce nell'archivio Gentile poi mio padre animato dal desiderio di smuovere la situazione anche questo ricordato da Natalino Irti appena adesso pubblicò sul giornale critico del 1969 85 lettere di Croce a Gentile comprese scelte diciamo volutamente tra quelle scambiate tra le due filosofi tra il 1896 e il 1899 quindi volutamente appartenenti agli anni che segnarono all'inizio del carteggio quelli che videro la più ferbida e generosa collaborazione tra i due filosofi le 85 lettere di Croce erano sì presso l'archivio Gentile ma erano comunque coperte dal diritto d'autore ciò fece sì che l'ospicata pubblicazione del carteggio venisse in sospesa e rinviata in attesa che si potesse riprendere questa vicenda portò comunque a un altro episodio ricordato Natalino Irti cioè allo scambio di riproduzioni tra i due archivi che fu così nel 1972 esattamente venti anni dopo la morte di Croce nelle opere complete di Gentile venne pubblicato il primo volume delle lettere all'amico quelle dal 1896 al 1900 edizione curata annotata da Simona Giornantoni che però non poteva servirsi nel commento salvo per qualche breve riferimento delle lettere di Croce uscirono poi altri tre volumi entro il 1980 il quinto e conclusivo volume invece poteva essere pubblicato solo nel 1990 quindi dieci anni dopo dopo il fallimento della Sansoni e la successiva acquisizione da parte di par di gran parte del suo catalogo comprese le opere di Gentile da parte della casa editrice delle lettere fondata nel 1976 da Federico Gentile nel frattempo nel 1981 erano uscite presso Bondadori per le cure di Alda Croce con un'introduzione di Gennaro Sasso le lettere a Giovanni Gentile di Croce edizione di cui la Gianna Antoni poteva tener conto nel pubblicare il quinto volume dal 1990 dunque si potevano finalmente leggere le lettere di Croce e di Gentile ma con grande fatica vista la difficoltà di doversi muovere tra un'edizione e l'altra con molte incertezze e dubbi circa la loro successione la successione delle lettere peraltro non ancora tutte integralmente edite un carteggio diviso in due tronconi in cui la cui natura veniva ad essere completamente snaturata ma ciò che è stato è stato oggi scorre finalmente lineare davanti ai nostri occhi il dialogo epistolare intercorso per circa un trentennio tra i due filosofi un carteggio che consentirà grazie alla rigolosa costruzione filologica archivistica operata da Cecilia Castellani e alle preziose note di commento approntate da Cinzia Cassani di analizzare nelle sue mille sfaccettature e possibili letture quello che fu il difficile e complicato rapporto che legò due filosofi per natura formazione e carattere così diversi tra loro e che permetterà anche meglio anche di meglio comprendere i motivi che furono all'origine del loro dissenso i cui primi segni sono oggi ancor meglio avvertibili leggendo di seguito le lettere in questa edizione integrale ben prima questi segni si avvertono del fatidico 1913 e concludo auspicando che questo carteggio sia presto fatto oggetto di convegni seminari e comunque di studi che mettano in luce i tanti motivi di interesse che una sua lettura continua e senza omissioni propone grazie pregherei ora il professor Gennario Sasso di sostituirmi alla presidenza e i relatori della sezione successiva Massimo Cacciari Michele Ciliberto ed Emma Giammattei di prendere posto qui grazie grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comincia la seconda parte di questa giornata. Per non perdere tempo do subito la parola al professor Massimo Cacciari. Grazie. Naturalmente non potremo qui oggi affrontare sul piano teoretico, filosofico, tutti i nodi che stringono croce e gentile. Ma però alcuni di questi fondamentali, possiamo forse trarli, l'esame di questi, dal carteggio e soprattutto da questi ultimi due volumi del carteggio che riguardano, diciamo, anni decisivi. Anni decisivi. Due filosofi faccia a faccia alla presa, ai ferri corti con gli anni dell'immediato della guerra e dell'immediato dopo guerra. Vi è un tratto comune in croce e gentile nell'affrontare questi anni decisivi. Io ritengo. Molte grandi differenze che tra l'altro erano già evidenti anche nel carteggio precedente, proprio presentando i primi volumi del carteggio a Torino anni fa, ci eravamo soffermati ad evidenziare come alcuni nodi teorici fossero già chiaramente emersi di dissidio in questa concordia discorso. Ma durante questi anni, gli anni della guerra, ancora più forti emergono questi tratti di differenza, ma anche tratti comuni. Io direi, riassumendo, che il tratto comune fondamentale è il loro atteggiamento antiromantico. Sono tutti e due realisti, realisti nell'affrontare il tema politico. Croce non è, non solo è all'inizio neutralista. E citare l'Italia, la guerra, è un vero delitto, dice. Non solo è giulittiano, amico di giulitti, ma pensa che si debba mantenere l'alleanza con i paesi centrali, con gli imperi centrali. Una lettera del 15 marzo del 15, che è una guerra contro di essi, dice, scaverebbe un abisso tra noi e le genti germaniche. Mentre l'intesa gli pare un mostruoso accorso di civiltà e interessi disparati. E che il loro odio, l'odio dei germanici, nei nostri confronti, sarebbe meritato. Sono parole molto nette, che non sono assolutamente condivise da gentile. Non è condiviso da gentile questo velato filo germanesimo crociano, ma gentile soprattutto è assolutamente ed evidentemente contrario a tutta la politica giulittiana, come tutti i giovani, diciamo, dell'intelligenza italiana dell'anteguerra. E ogni sua tentazione neutralista, che all'inizio vagamente poteva anche intravedersi, è subito superata. Se non combatteremo, saremo vinti comunque. E concepisce la guerra in tutti gli scritti del periodo, in tutti gli scritti, Gentile concepisce la guerra e l'intervento nella guerra come ciò che potrà cementare, dice lui, cementare finalmente nel sangue questa nazione formatasi per fortuna più che per il valore dei figli. L'espressione strana, no? Cementare ciò che si vuole vivissimo. C'è forse una certa contraddizione terminologica nel cementare ciò che vive. Entrambi però sono anti-romantic, ecco, entrambi. Detestano i d'annunzio, detestano coloro che vivono tra un inno e una battaglia. I buffoni li chiama Croce, i buffoni. Ma il senso del contrasto è chiaro. Il senso del contrasto tra loro è chiaro. È fondamentale, non tattico. Croce vuole evitare la crisi. Gentile la vuole produrre. Croce si augura modifiche nella continuità. Gentile parla e parlerà sempre di riforme. Riforme è un termine che usa continuamente Gentile nella sua vita politica e anche come filosofo. Riforme, ma intende riforme non nel senso riformistico, piuttosto nel senso, credo, rivoluzionario. Entrambi pensano però ancora a una guerra, alla guerra che si profila o in cui poi si interviene, a una guerra secondo la forma dello justum bellum. Tutti e due ancora hanno questa idea della guerra. Ma in Croce questo elemento è fondamentale, mentre in Gentile direi è sussidiario, superfluo. È Croce a usare antiche e nobili parole che vorrei ricordare. Faremo la guerra, va bene, ma non farsi l'animo della guerra. Non portare nella guerra l'animo del bestione che concepisce la vittoria come distruzione del nemico. E addirittura, come non dirsi cristiani, addirittura essere in grado di vedere nel nemico il fratello. Occorre ricordarsi queste parole di Croce all'inizio della guerra. Croce che allora interviene e sostiene poi eticamente, culturalmente, l'intervento. L'epistolario documenta indiscutibilmente di un forte dissidio tra i due filosofi. Un dissidio che si era già espresso da un punto di vista filosofico in tanti modi e anche nelle lettere stesse precedentemente pubblicate. E che qui è alla prova del fuoco, come dire, nel vivo della guerra. Da un lato è chiaro, ripeto, per Croce la guerra è una formidabile malattia da cui occorre il più rapidamente possibile uscire. E si può uscire riprendendo il filo interrotto politico-culturale precedente. Certo, con un rinnovo anche di classe dirigente. E Gentile per Croce poteva benissimo rappresentare, avrebbe dovuto rappresentare un esponente di questa nuova classe dirigente. Nell'epistolario, lo si dice, no? Croce fu favorevolissimo alla nomina di Gentile a ministro, ma lui stesso era pronto a proporlo nell'eventuale gabinetto Giolitti. Questo è la presenza di Gentile. Un rinnovo di classe dirigente, un rinnovo culturale-politico-istituzionale, ma sostanzialmente in continuità. La guerra è una crisi, sì, ma non una rottura, una radicale rottura. Non è la fine di un mondo. Non è vissuta come la fine radicale di un mondo. E in Gentile, invece, io penso che sia così che si vive la guerra. Ed è l'idea stessa del risorgimento gentiliano, come mi pare Sasso ci ha spiegato varie volte a indicarlo, questa idea del risorgimento gentiliano, tutto letto secondo questa prospettiva, cioè in una chiave rivoluzionaria, nei confronti delle politiche post-unitarie. Il risorgimento va attuato contro le politiche post-unitarie che ne avevano tradito lo spirito, per Gentile. E il fascismo si configura come la prassi che compie questo risorgimento. Direi tra parentesi, è indicativo per nessuno dei due, né per Gentile né Croce, esiste il problema di un risorgimento cattaneo. Cattaneo non c'è. Entrambi leggono il risorgimento in una chiave sostanzialmente contraria a quella indicata da Cattaneo. Da un lato hai appunto questa idea di una politica che rompe appunto con le politiche post-unitarie e leggi il risorgimento in questa chiave, e dall'altra invece la figura, direi la figura del grande borghese, la figura manniana di Croce, contro la figura rivoluzionaria del filosofo che è prassi della filosofia, che è prassi della prassi, che è filosofia. È la figura anche che io amo della rinuncia, del costante esercizio di critica su se stesso contro il fiat voluntas mea dell'atto gentiliano. È una figura anche malinconica, si direbbe a volte, quella crociana, come vive la guerra, come vive quegli anni decisivi. Proprio quando crescono le speranze di vittoria esce con frasi di questo genere. Lì, alla vigilia della vittoria, quasi, quando crescono le speranze di vittoria, si vive come sonnambuli, muovendo le mani al solito lavoro e con l'anima altrove. E con l'anima altrove. Chi ha ragione storicamente? Probabilmente ha ragione gentile dal punto di vista storico, perché la guerra, quella guerra è stata una decisione assoluta. Nulla poteva più essere come prima. Nessuna continuità poteva essere intrecciata con il periodo politico precedente. È il principio di una nuova era, la grande guerra. A partire dall'Europa e dal suicidio politico che l'Europa compie con quella guerra, Gentile non è affatto un semplice attivista, sia chiaro, ma neppure un evoluzionista, come lo erano le vecchie maggioranze socialdemocratiche da cui si divide appunto Mussolini. La guerra è rivoluzionaria, per Gentile sì, ma costituente. Dovrà formare un nuovo ordine. La filosofia deve cercare e volere realizzarlo. E Gentile pensa che il fascismo rappresenti, a un certo punto pensa che il fascismo possa rappresentare la prassi capace di ciò. Decisione sì, ma costituente. E anche dall'altra parte la pensano così, eh? Anche Gobetti, anche Gramsci coniugano guerra e rivoluzione. Guerra e rivoluzione. Rivoluzione positivamente intesa, appunto, rivoluzione costituente. Così l'errore, no. naturale deriva. Così Gentile si incontra con Mussolini. Non perché, come molti, vi veda la possibilità della realizzazione delle idee della destra storica, ma esattamente l'opposto. E neanche per forme di nazionalismo, sia chiaro, ci sono tanti motivi, tanti temi, tante pagine in cui Gentile si sofferma criticamente sull'idea di nazionalismo. Ma, appunto, il fascismo, Mussolini, come la forza che può determinare la definitiva sconfitta della destra storica, della politica postunitaria. e crede, crede, che Mussolini sia capace di ciò. Crede, si potrebbe dire, penso, che il fascismo non abbia in sé alcun carattere reazionario. Questo è il suo tragico errore. Immagina, tutto sommato, che il fascismo vuole, vuole imporsi di immaginarlo, che il fascismo possa essere rinteso nella prospettiva che sarà quella sua di genesi e struttura della società. Non era questo il fascismo, era questa l'immagine che disperatamente, a mio avviso, gentile, se ne faceva. Dall'altra parte, il disincanto. Croce capisce bene che non è questo il fascismo. Capisce bene l'errore dell'amico. è il disincanto del grande borghese comune a Croce come a tanti grande intelligenza grande borghese di quegli anni. Non ha fedi. Gentile crede. No, Mussolini, Croce, Croce non crede. Non crede se non nella libertà che è appunto un'idea che come è noto non può essere in alcun modo dimostrata. Non è una fede, un'idea. ha come pudore di parlarne con l'amico. Capisce l'errore in cui sta andando gentile, ma ha pudore di parlarne. Croce, come si vede dall'epistolario, neppure sa della sua iscrizione al Partito Nazionale Fascista e se ne rammarica come non me ne ha parlato, non si è confrontato con me. Non vi è più possibile confidenza tra di loro. È drammatico questo epistolario, no? In cui precipita tutto un antico dissidio, certo, teorico, filosofico, ma precipita in questi anni duri, decisivi, in cui queste persone che detestano entrambi letterati che detestano entrambi l'intellettuale appunto bookish, come direbbe Shakespeare, no? Bookish, come era Prospero, l'intellettuale fatto di libri e che si impegnano ai ferri corti con la loro epoca la vogliono comprendere nel concetto, ma per comprendere l'epoca nel concetto bisogna andarci ai ferri corti, bisogna viverla dall'interno e questo è uno straordinario documento di questa serietà, drammatica serietà del vero intellettuale. Non è più possibile confidenza, se ne soffrono, ne soffrono ambedue. Le ultime lettere non parlano ed è bello anche questo, non parlano che dell'impegno civile di ambedue, del loro servizio pubblico, non si parlano più, non riescono più a parlarsi di filosofia o di politica e tuttavia sono lì impegnati, no? Croce, anche per problemi molto particolari della sua Napoli, per la loro università, per i loro amici, servizio pubblico, servizio pubblico fanno tra di loro, a testimonianza della grande responsabilità che li anima, sono tutti e due dei responsabili, responsabili, capiscono che la loro missione consiste nel rispondere, non soltanto nel fare domande, la moda di questi tempi, E la filosofia consisterebbe nel fare le domande, ma no, la filosofia consiste nel rispondere, la politica consiste nel rispondere, non nel fare domande, facile fare domande, osare rispondere, e rispondono diversamente, ma rispondono, pronti a pagare il prezzo delle loro risposte, e con questa grande amarezza che si vede in tutti e due, no, si seguono trepidanti, trepidanti, Gentile, Croce segue trepidante l'attività di Gentile e Ministro e la fortuna della sua riforma, sostenuta da Croce, la riforma della scuola, segue trepidante, ma si sente questa trepidazione nelle loro rete, questo pudore e questa trepidazione, fino appunto che è stato citato prima a quell'ultima lettera di Gentile, quelle ultime parole su cui si conclude l'epistolario, il 23 ottobre del 24, malgrado tutto, io sarò sempre il tuo Giovanni. Grazie. Ringrazio Massimo Cacciari per questo bellissimo intervento, sarebbe molto da discutere, ma dobbiamo dare la parola a Michele Ciliberto. Come è stato detto da più di noi, da quelli anche che sono intervenuto, questo è un bellissimo carteggio ed è una testimonianza straordinaria di amicizia. Da questo punto di vista è uno dei carteggi più importanti e più significativi del Novecento. La domanda però che vorrei porre con voi è questa. quando Croce parla di amicizia cosa intende per amicizia? E che tipo di amicizia è quello che Croce ha per gentile? E quindi perché è così profondo il trauma, così profondo il senso della rottura? Rispetto a quale rapporto di amicizia si era determinato tutto questo? E voglio dirlo anche per smentire anche questo pomeriggio uno dei tanti miti che si sono raccolti intorno a Croce. Uno dei miti è il Croce erasmiano il Croce elimpico il Croce ghettiano risale addirittura alla Briola risale a Gramsci che lo avvicina a Erasmo la Briola che gli dice tu sei epicureo per dire che è un uomo fuori della battaglia invece Croce è sempre dentro la battaglia ma è in un modo particolare con uno sforzo continuo di oggettivazione è giusto quello che si diceva a proposito dell'ultima parte del carteggio in cui non c'è più discussione filosofica ma non è un caso e non è solo il predominare delle questioni di ordine civili è una scelta che Croce fa consapevole quello è un terreno di divisione meglio non frequentarlo proprio perché tiene al rapporto con Gentile proprio perché quell'amicizia gli è cara tante volte dice anche Gentile da ultimo non diamo soddisfazione ai nostri nemici mostrandoci divisi e quindi concentriamoci tranne casi eccezionali che pure capitano nella parte finale del carteggio sugli elementi che non generano rotture tensioni nella nostra amicizia però prima di leggere un frammento di Croce sull'amicizia un testo del 1927 del luglio del 27 vorrei leggere alcune parole che sono state pubblicate invece nel 1944 un frammento intitolato Esuli relativamente conosciuto nel quale però Croce esprime in maniera più intensa di altre volte il suo rapporto diciamo fra quello che scrive e le profondità di lui stesso e dice nello scrivere queste pagine mi soffermo talvolta troppo frequentemente sull'io come si fa a scrivere peraltro ricordi della propria vita senza ricorrere all'io l'ho ben tenuto in freno e messo a tacere nei miei libri storici e dottrinali ma e su questo richiamo la vostra attenzione questi miei libri sono stimolati e materiati come non potevano non essere da mie esperienze da miei amori da miei dolori personali da tanti ricordi che ho convertito in filosofemi e in quadri e in quadri storici ho messo come epigrafe ai frammenti di etica le parole di Ovidio quod nunc ratio est impetus ante fuit per significare appunto questa profondità di passione di esperienze personali dice esperienze amori dolori ricordi da cui germina la sua riflessione se no come dire ci presentiamo un'immagine di croce che non ha senso e che non corrisponda a quello che effettivamente è stato e allo sforzo che ha fatto tutta la vita di trasformare in ratio l'impetus l'amore il dolore la passione questo testo che sottoponga la vostra attenzione è del 1927 esso sulla critica del 1927 e quindi nello stesso periodo in cui croce scriva la storia d'italia cioè il testo nel quale la rottura con gentile diventa definitiva drastica assoluta come tratta croce il problema dell'amicizia stabilisce un nesso fra amore e amicizia amicizia e amore vanno considerata in modo unitario per bene intendere questo rapporto che è un rapporto morale bisogna muovere dall'amore non dall'eros ma dall'amore salito appunto al rapporto morale amore di consorti e subito dopo ribadisce quello che sulle basi naturali sorge tra l'uomo e la donna come amore sorge nelle altre parti della vita sociale come amicizia in entrambi i casi si tratta di un rapporto totalmente estraneo a interesse di carattere utilitario o a impulsi di carattere puramente affettivo altrimenti si chiama simpatia dunque come l'amore l'amicizia consiste in un reciproco rapporto di anime legame egualitario dice paritario ma solo nell'amore e nell'amicizia perché coloro che fanno parte di un rapporto di amicizia e qui c'è la straordinaria autoconsapevolezza sempre che ha quando sta nelle cose e nel rapporto degli uomini perché nel resto anche due amici possono essere differentissimi e disparatissimi nell'amore e nell'amicizia cancellano le rispettive individualità sono legami assai rari tuttavia l'amicizia addirittura dice Croce è un legame più raro del legame coniucale essa è un istituto morale il cui significato e valore sta nella realtà del disinteresse nell'uno e nell'altro nel sentirsi sotlevati sull'utilitarismo onde nell'amicizia come nell'amore si può trovare un rifugio e vorrei che ascoltando questi testi voi pensaste anche al rapporto di Croce con Gentile per cercare di scavare lì che è quello l'oggetto di questo esercizio con l'amico ci si sfoga ci si confida si piange si ride solo tra amici si ride davvero di riso sano naturalmente Croce nel fare questa osservazione ha presentato Aristotele l'etica nicomachea ma a me interessa sottolineare il rapporto tra amore e amicizia per ribadire il valore e il peso che Croce dà l'amicizia nella vita morale dell'uomo di cui è testimone questo carteggio sia per mostrare in modo simmetrico il trauma che rappresenta quando quando un'amicizia finisce essendo questa amicizia intesa essenzialmente come una virtù la fine di un'amicizia è una perdita non risarcibile così come una perdita non risarcibile è la fine di un amore nel caso dell'amicizia ci sono però altri tre motivi specifici che contribuiscono a spiegare l'elogio che Croce fa dell'amicizia i santi hanno attinto non c'è un rapporto di amicizia fra i bruti o i santi loro possono vivere loro senza amicizia i bruti e i santi i santi hanno attinto cito la forza eroica di vivere per l'ideale e nell'ideale senza bisogno di appoggio sociale e di conforti ma dice Croce bruti e santi sono concetti limite non esistono nella realtà l'amicizia è dunque un sentimento naturale proprio dell'umanità essa è cito assolutamente necessaria alla vita senza amici nessuno sceglierebbe di vita anche se possedesse tutti gli altri beni l'amicizia è indispensabile anche per la filosofia per lo sviluppo della vita intellettuale se l'amico è un filosofo ebbene è il senso proprio dell'amicizia tenendo conto di questa affermazione appare chiaro cosa rappresenta per Croce la fine in generale dell'amicizia si trattasse di amici o anche solo dice fra virgolette di un amico un trauma profondo e risarcibile che tocca la vita quotidiana e lo sviluppo del pensiero al quale si può mettere rimedio in un solo modo conversando con gli spiriti magni su questo sfondo è fondamentale nel ragionamento di Croce il rapporto fra amicizia e giustizia che viene a tutti gli altri uomini dobbiamo giustizia ma all'amico 1927 par che si debba non solo giustizia quella che gli spetta come ad ogni altro uomo ma qualcosa di più per l'appunto l'amicizia e qui potrebbe sembrare che nell'amicizia si sia par la Croce un'ingiustizia o come si dice della parzialità ma se in merce l'amicizia si promuove la disposizione morale che è anzitutto disinteresse personale all'amico che si presume vero e sincero si dà quel che gli spetta cioè quello che egli è pronta a dare a noi e questa è pur giustizia la giustizia del caso particolare la giustizia dell'amicizia è un problema questo che ci sta a cuore particolarmente nel 27 quando sta facendo dei gesti straordinari sta facendo delle scelte molto profonde che a lui appaiono discutibili e dice a volte non preveggenti se se tiriamo conto di tutto questo comprendiamo meglio le modalità del ragionamento di Croce sull'amicizia lo definisce in chiave aristotelico l'amicizia come virtù lo individua come particolare tipo di giustizia che suapta nella relazione con l'amicizia quindi chiudo questa riflessione sull'amicizia in un circolo compatto di pensiero il primo punto è sviluppato in chiave storico-politica si direbbe che nei tempi moderni più complicati e più mobili abbia minor luogo e certo accangiato forme pure senza amicizia come senza amore non possono vivere l'ha già detto se non i santi e i bruti sul secondo badate è più secco e più rapido quasi volesse limitarsi a un'osservazione di senso comune ma è vero il contrario è lì che sta la ferita quindi più secco più rapido non meritevole di altri approfondimenti che tocca però un punto particolarmente doloroso per lui cito come il rapporto dell'amore è ricco di amori traditi così anche quello dell'amicizia è ricco di amici ingannati e delusi ma scrive e qui lo fa subito per come dire tirarsi fuori anche dal luogo in cui sarà messo con una battuta ironica non ciò va a insistere su questi ne ha parlato metastasio dell'amicizia tradita in tanti versetti dunque dunque una ferita aperta come al solito che si sforza subito di chiudere l'ultima lettera del carteggio specificante in una sorte di autoterapia come possa e debba fare l'uomo rimasto senza amici cosa deve fare l'uomo rimasto senza amici anche quando la fortuna non concede più gli amici o l'amico quando ci si risolve a vivere in solitudine e si intonano le lodi della vita solitaria della solituda solo beatitudo proprio a loro non si fa altro che procurarsi altra amicizia altra compagnia ma quale amicizia quella degli spiriti di ogni luogo e di ogni tempo non più gli amici in carne ed ossa dunque deluso dal mondo senza amici in carne ed ossa il filosofo può costruirsi una sua scelta ideale di amici fuori del tempo pur conclusi in toni commossi e quasi empatici il frammento sull'amicizia è un testo amarissimo è un testo tragico a saperlo leggere è la presa d'atto definitivo della conclusione di qualcosa che per lui era stato fondamentale se anche leggete le ultime gli ultimi volumi gli ultimi tomi i gesti di affetto continui che si fanno e croce fra all'amico una solitudine profonda il tramonto di antiche amatissime consuetudini i colpi di una fortuna avversa risolto sul piano stilistico il frammento sull'amicizia è percorso da una profonda malinconia che si risolverebbe in sconforto senza questa individuazione di un'altra amicizia di spiriti del passato il frammento dell'amicizia a mio giudizio è di carattere strettamente autobiografico e cristallizza quello che per lui era stato un rapporto di amicizia fondamentale che ci aiutano a capire questo carteggio se si leggono l'una accanto all'altro l'ultima lettera che scrive Gentile e questo frammento sull'amicizia si capisce credo meglio il trauma di quella rottura per entrambi naturalmente anche se io penso e che lo indusse questa rottura a tagliare il rapporto con il passato come faceva in questi casi con i punti fondamentali della sua vita quando si inclinavano faceva tagli durissimi secchi netti cercandoli in qualche modo di non farle più diventare come dire elementi di una memoria presente sia nel frammento che nella lettera Croce si esprime come fa sempre con uno sforzo di massima oggettivazione di quello sta accadendo ma in entrambi i testi credo si possa vedere cosa che fermenta in quelle pagine il trauma che anima quelle pagine e che si acuisce con la pubblicazione nel 28 della storia d'Italia l'8 luglio del 27 lo stesso mese in cui sulla critica esce il frammento sull'amicizia Neta Quini parlando della storia d'Italia Croce scrive parole che vanno tenute presente per capire anche il carteggio cito i legami di questa storia con la situazione presente mi hanno portato a meditare e fantasticare dolorosamente sul presente e sull'avvenire mi costa uno sforzo penoso attendere alla storia che mi sono proposto di scrivere come dovere da adempiere verso i miei connazionali mi si riaprono piaghe come forse non accadrebbe se potesse occupare la mente in altri studi meno vicino alla politica attuale piaghe in cui si intrecciano motivi di carattere personale e riflessione di ordine politico elementi esperienze dolori e dolori personali amori come dice nel frammento Esuli del 44 pubblicato sulla rivista abruzzese nel 77 che sono come dire oggettivati in uno sforzo di autocontrollo che è Croce come è noto la crisi del rapporto fra i due vecchi amici ha una storia complessa è stata già detto matura sul piano teorico già nel 13 con la polemica aperta da Croce sulla voce anche quella fu una scelta estremamente consapevole lettera privata e lettera pubblica è libero e dicibile già lo sappiamo sono passati dieci anni dal primo volume quando non erano stati più necessari gli andirivieni degli studiosi fra un'edizione e l'altra per ristabilire nella mente botta e risposta ora emerge con ben netta e maggiore evidenza il regime di storicità della corrispondenza la pressione dalla parte di Croce di un superio storiografico che si rivolge all'altro ma anche ad un ideale lettore futuro e questo è Croce che impegna nella lettera le insegne di dice lui ciò che deve diventare vero e in una celebre lettera gentile la coscienza della verità come duro lavoro ecco il nostro dovere presente ma di sempre direi la lettera viene allora percepita come l'immagine primaria di ciò che in quanto scritto all'altro sopravvive all'effimero e potrà un giorno rientrare in circolo nel gioco delle interpretazioni e ci siamo in tal senso il carteggio fuoriesce continuamente dai suoi confini e sempre più di frequente nel 13 dalla lettera alla lettera aperta con la polemica portata sulla voce e poi nel 15 nel 15 con le posizioni dissimilate ma soprattutto quando croce controlla che la filosofia dell'atto puro viene adoperata dice croce per non pensare praticamente politicamente ma dagli scolari pappagalli non da gentile in questo ambito precipuo il croce autobiografico a presente quello che dichiara Raffaello franchini negli anni 40 bisogna scrivere lettere sempre come se dovessero essere pubblicate basterà ricordare che quanto scrive croce a gentile nel corso della discussione sulla voce ecco il superio storiografico che controlla alla luce di un orizzonte postumo croce ricordava che il contrasto non nella lettera a gentile non poteva non venire in luce e il prima ad accusarlo non sono stato io ma tu e se non ti dispiace i tuoi scolari agmi ne è fatto ma aggiungeva auspicando questo è un motivo ricorrente io sono persuaso che restando concordi e collaboratori faremo il vantaggio degli studi italiani e faremo una migliore filosofia di quella ottima che sia che possa nascere nella tua e nella mia mente e della lettera dopo mi pare che abbiamo dato un bel esempio di realtà scientifica portando alla pubblica discussione il nostro dissenso e ne daremo uno più bello di amicizia restando indivisibili ed ecco che negli stessi giorni scrivendo una lettera di tutt'altro carattere all'amica Adele Rossi di lì a poco sua fidanzata e sposa Croce le si confidava e raccontava gli ultimi sviluppi della discussione esattamente con gli stessi passi che vi ho letto ancora più interessante non ve la ripeto il mio amico si è finalmente calmato e ora siamo come siamo sempre stati da 18 anni abbiamo dato un bel esempio di realtà scientifica i stessi passi Croce nelle lettere è sempre coerente sempre identico a se stesso Croce rilegge le proprie lettere non solo rilegge le proprie lettere anche se ne scrive una trentina al giorno cioè dichiarato scritto è interessante è una lettera Fossler del 19 agosto 13 cioè un po' prima in cui dice avrai notato che il gentile ha dato un certo indirizzo al suo pensiero che si differenzia dal mio perché tende a risolvere tutto nell'autocoscienza e questo indirizzo ha ora parecchi aderenti io aspetto che si maturi ecco già qui comincio a dire aspetto che passi il tempo è strano perché poi Croce ci ha dimostrato tante volte che lui non crede all'opera del tempo ma al tempo dell'opera quindi però è un modo per differire il contrasto ha ragione Ciliberto e non mi è gradito oppormi a un amico e collaboratore che è per me Tamquam Frater su questo non c'è dubbio nessun dubbio e dice qual è la sua filosofia il vero è che io credo dannoso quell'indirizzo perché fiacca le opposizioni e distinzioni della vita indebolisce le energie del giudizio invece il mio sforzo è quello di far valere nel seno dell'unità tutte le distinzioni e opposizioni e fondare un sistema di giudizi sulla vita questo è un motivo ricorrente nel 1908 poi aveva pur detto a Prezzolini io sarei stato la metà di quello che sono se non mi fossi incontrato con lui però la discussione del 13 la polemica sulla voce non uscirà mai più dalla loro mente e ogni occasione sarà buona per ritornarvi ne sarebbero ahimè mancate le occasioni grazie ai ragazzi scolaretti tipo sgroide rugiero eccetera eccetera e ancora nel 20 Gentile fa un'osservazione importante dice all'amico ma tu metti in questa questione una passione una violenza che non riesci a dominare ed è la verità ed è la verità croce risponde dalla prova poi di questo che dice mi diede fastidio una frase quella in cui tu mi rimandavi a un libro che non avevi ancora scritto una etica e anzi ed ecco il croce che dà compiti assegna compiti ti prego di sopprimere se ti capita quella frase cioè non perdi occasione poi qualcosa diremo anche di questo ho fatto uno spoglio sono una letterata mi dispiace annunciarvelo una filologa quindi ho fatto uno spoglio della occorrenza in questo carteggio di concordia discourse e ce n'è naturalmente distinzione idem ma voglio dire che ora finalmente per i filologi sarà possibile interrogare questi documenti certificati restituiti all'ordine di domande risposta ora nella configurazione quantitativa oltre che nella intensità dei segnali può essere accostato e letto insieme con altri carteggi vi ho letto Fossler per esempio ma dietro un evento testuale culturale politico parlo di questo carteggio di tale portata è chiaro che noi dobbiamo ringraziare la volontà volontà e la militanza di molti di coloro che hanno sostenuto la necessità di ricostituire l'intreccio naturale storico della corrispondenza che ora si può leggere dirò una banalità ma debbo farlo si può leggere come un romanzo epistolare molto avvincente pur conoscendone l'epilogo si legge in certi punti come un thriller afferriamo il testo nella sua autonomia diceva Schlegel che anche una conversazione reale può essere un'opera d'arte per l'autonomia l'esemplarità di questa storia anche qui siamo dinanzi ad un opus magnum e persino negli ultimi due tomi perché si legge come un thriller ci sono come accade nel rapporto fra individualità eccezionali delle aperture porte scorrevoli che fanno intravedere altri imprevedibili esiti che non ci furono e il dialogo tra voci con presenti subito ci fa cogliere il meccanismo della ripetizione della ripresa di parole a volte dice Tullio De Mauro nella forma retorica dell'antanaclasi che è la figura di una parola che viene ripetuta uguale come suono ma con segno molto mutato dice De Mauro che il primo novecento prima della prima guerra mondiale l'Italia attraversa l'età dell'antanaclasi dove non c'è una comunità discorsiva si dicono dicono tutte le parole fede patria nazione ma ognuno con una diversa inflessione voglio dire questa ripetizione parliamo di quelle ultime due lettere quella di di Gentile e la risposta di Croce in quella nella lettera Croce considera i trent'anni di amicizia con quel suo superio storiografico e si riferisce al dopo perché la sua scommessa è di pensare l'epilogo l'altro gli scrive una lettera è stato detto che si conclude malgrado tutto io sono sempre il tuo Giovanni ma che lettera è? piena di domande mi inganno ci vogliamo ancora bene non ti chiedo una lettera ti chiedo è una preghiera abbiamo parlato di amicizie di amore beh io sulla scorta di Aumodeo che legge il carteggio Carducci-Lidia anzi l'epistolario che sono solo le lettere di Carducci beh c'è un formato dell'immaginario epistolare e quella è una lettera turbata e perturbante molto forte Gentile non scrive belle lettere ma alla fine proprio nell'ultimo volume le lettere più belle le scrive lui le scrive lui prima che cosa scrive il giovane Gentile scrive lettere che sono alla maniera umanistica trattatelli filosofici che insegnano molto a Croce molto e se ne ricorderà non posso fare questa storia delle fonti perché andremo lontano e sarei anche molto noiosa ma facciamo un carteggio facciamo un seminario su questo carteggio e l'altro invece ecco Croce veramente non ho nessun ricordo e quel malgrado viene ripreso malgrado tutto sarò sempre il tuo gentile e lui dice non c'è che fare bisogna che la logica delle situazioni si svolga attraverso gli individui malgrado individui ma io non ho pensato di romperla con te per molte ragioni per non dare soddisfazione ai cosiddetti amici agli spettatori e poi per una ragione anche questa molto molto tranquillizzante ma Croce qui non la vuol dire tutta ho fiducia nel tempo di nuovo e molte volte ho udito dirmi di poi tu avevi ragione il fatto è che Croce ha sempre ragione logica mereditit odiosum perché i giovini vociani lo detestavano perché aveva sempre ragione è un addio queste lettere non raccontano un addio congedo tra i due non ci sarà mai a me pare che sia stato Gennaro Sasso a indicare un'altra via non la via delle soluzioni di continuità certo il filologo ora potrà analizzare tratti linguistici che ci mettono in contatto con la realtà della persona e consentirebbero non ora non qui le famose fantasie psicologiche certo no perché da una parte noi vediamo Gentile dall'altra parte Croce più freddo se non avessimo bene in mente il ritratto che ne ha fornito Sasso nel 1981 ecco il ritratto altro che olimpico ecco il ritratto di Croce 1981 introduzione alle lettere di Croce Gentile di animo sensibilissimo e perciò bisognoso di interiori certezze era capace di grandi passioni e travagli quanto abile nel dissimularli con l'arte sapiente della sua molta letteratura sì che accadeva spesso che all'altrui comprensione la forza della sua ammirabile prosa nascondesse con la fatica che quella conquista era costata il senso e il significato di una così tenace ricerca dell'equilibrio interiore 1922 Giacomo De Benedetti Croce non ha mai voluto darci la rappresentazione del suo caos e allora che fa Croce in questo carteggio fa tutte cose che non lo rendono simpatico neppure a Gentile che ne fruisce comanda le operazioni organizza stipendia doverosamente sia chiaro che il lavoro di Gentile è imponente per la terza e per la critica è Gentile che bellissime quelle lettere in cui è costretto a passare sto citando dall'agnoseologia alle mie miserie orgoglioso lavoratore sempre in angustie non è sociologismo scusatemi voglio solo individuare e offrirvela per ora una prossemica epistolare che distanza c'è è una prossemica dinamica perché Gentile a un certo punto si emancipa da un effetto affetto avvolgente anche corro il rischio di parole impropri ma temo più nel conformismo della comfort zone appunto degli stereotipi che di cui Michele ha parlato e voglio solo in tre battute quali sono per uno studioso uno storico della cultura del mio tipo non un filosofo qual è il grande tema beh il tema centrale è tempo e racconto la storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte il tempo raccontato dirà Ricker citando sempre con Hollywood che parlava con le parole di croce il tempo è il racconto tutto il carteggio è a ragione l'estetica dice Sasso contenuto interessante non interessante de sanctis e si intreccia con la grande domanda il materialismo storico è filosofia della storia o canone di interpretazione d'altra parte il contenuto il problema del contenuto la materia antecedente nell'arte ritorno nel 1907 col grande dibattito anche con Foss allegoria e infine appunto l'allegoria poesia di Dante 1921 che ha un dedicatario Giovanni Gentile gli interlocutori non sono solo i barbi e parodi ma c'è anche lui e mi avvio a chiudere questo discorso un po' necessariamente veloce l'ultima l'ultima stagione la lunga la lunga stagione di croce senza gentile voglio ricordare alcuni tratti della della ricezione quando nel 1967 si presenta l'epissipubblica l'epistolario con la scelta fatta con la scelta fatta dallo stesso Benedetto Croce c'è una lettera famosa la lettera non spedita in cui io un po' incautamente oggi non lo farei nella biblioteca il dragone pubblicai quel passo mancante quel passo mancante che poi ritorna ritorna in un altro testo che Gennaro Sasso non avrebbe pubblicato e io sempre giovanilmente pubblicai Aldo diceva Sasso non vorrebbe però io dicevo ma pubblichiamolo questo la pagina di ricordi guardate il superio storiografico pagina di ricordi 44 da non pubblicare o poi sotto una postilla o da pubblicare nel caso nascessero calunnie sulle mie relazioni con Gentile cioè questa necessità di governare l'età postuma questa ossessione della della temporalità ma non ve lo non ve lo non ve lo leggo non ve lo leggo perché dice però quelle cose che avete già bene intese né io riuscì mai ad obbliare quello che mi ferì come diserzione come diserzione e tradimento in questo carteggio ci sono anche lo perdonerete a chi è convinto che il passaggio per la scrittura non è mai indolore innocuo né tantomeno insignificante ci sono lettere e le scrive Gentile e ci sono lettere allegorie ci sono lettere allegoriche raccontano fatti ma significano un'altra cosa ve ne voglio ricordare solo una chiusura del mio breve breve intervento e c'è un racconto allegorico in cui del 19 maggio 20 quindi siamo ancora lontani dal 24 anche se la situazione a partire dal 15 io direi è molto è molto cambiata 19 maggio 1920 caro Benedetto ieri sera giunsi alla stazione alle 7 e poiché sul binario dal lato delle partenze vidi un treno pronto per Torino cominciai a cercarti negli scompartimenti di esso passandoli e ripassandoli ad uno ad uno sempre più convinto che quello dovesse essere il tuo treno poiché un ferroviere mi disse che un altro treno si sarebbe formato per Torino tra poco sul binario accanto insomma quando un amico mi avvertì che il treno delle 8 partiva dal lato degli arrivi e corsi da quell'altra parte il tuo treno era già partito mi ero incresciuto ti avevo portato il Renzi e la rivista di cultura che ora ti mando per post saluti ai tuoi divertiti ecco non è l'unica ci sono molte lettere di non incontri di incontri mancati vissuti perdonatemi come sogni ma sono dati reali quello che mi importa è che gentile voglia esprimere questo e questo conta grazie ringrazio Emma Gianmattei per questo bell'intervento ricco di spunti e di problemi io vorrei ricondurre per un istante la questione alla costituzione di questo carteggio al lavoro che è stato fatto per questo carteggio sono stati dieci anni di lavoro quasi quotidiano interrosso soltanto nei giorni più caldi dell'estate e si è svolto per quanto riguarda la parte che mi ha più direttamente coinvolto per ovvie ragioni dentro l'archivio Giovanni Gentile dove erano le lettere di croce e vorrei che fosse chiaro che il lavoro che le signore Cassani e Castellani hanno svolto è stato un lavoro di grandissimo impegno e di ardua filologia nel senso che i due carteggi pubblicati dovevano essere intrecciati ma intrecciare quei carteggi significava rileggere controllare la data vedere che una lettera corrispondesse a quella giusta viene da una sbagliata per un carteggio così grande questi dieci anni non sono stati sprecati sono stati intensamente lavorati giorno dopo giorno e di questo bisogna veramente dare atto alle autrici di questo carteggio che si sono dimostrate da questo punto di vista filologhe provette sono stati detti tantissime cose di questo carteggio io vorrei fare semplicemente qualche considerazione e la prima considerazione vorrei che non venisse presa come una provocazione ma io non credo francamente che l'amicizia tra croce e gentile si sia rotta nel 1924 per le incomprensioni che erano accadute tra di loro in un momento tra i più complicati e difficili e caotici della vita italiana chiunque abbia avuto esperienza di documenti di quel tempo prese di posizione di personaggi sa che la consapevolezza di quello che stava accadendo è stata di pochissimi nessuno poteva prevedere nel 1924 quello che sarebbe accaduto nel 1925 26 27 ci sono persone che hanno dedicato la loro vita a combattere la dittatura fascista senza una sola incertezza che in quel periodo erano incerte non circa la loro disposizione politica profonda ma sulla posizione da prendere perché la situazione sembrava sfuggire di giorno in giorno dalle mani vorrei ricordare una sola cosa che ogni volta che mi torna in mente mi lascia veramente allibito Adolfo Modeo dopo il delitto Matteotti Adolfo Modeo era di formazione gentiliana era un discepolo di gentile del periodo di Palermo era molto legato ma cominciava naturalmente a avere dubbi sulla condotta politica di gentile come aveva dubbi sulla sua perché non sapeva esattamente come le cose si dovessero mettere e a un certo punto in una lettera diretta al gentile dice prenda lei la direzione del paese ora che Mussolini ha fallito cioè qualcosa di incredibile veramente di incredibile che si potesse veramente credere che gentile potesse diventare il capo del governo ma gentile era un filosofo era uno studioso era certamente un uomo di grandi capacità organizzative ma non aveva certamente la vocazione del leader politico a quel livello ma il senso di incertezza e magari anche proprio di disperazione la mancanza di chiarezza che c'era nella classe intellettuale non soltanto in quella spiega tante cose e mette il problema della politica in una luce diversa rispetto a quella schematica della distinzione di fascismo di fascismo che diventa subito dopo operante decisiva è vero per tutti detto questo io ci ho pensato parecchio in questo periodo in questi ultimi anni sono in là con gli anni e la mia diciamo il mio primo contatto con i testi dell'idealismo risale quando ancora si combatteva la seconda guerra mondiale fu allora che cominciai a vedere qualche testo di croce datomi in maniera abbastanza avventurosa quello di un personaggio che adesso non ricordo gli lessi non capito la parola di quello che leggevo avevo 15 anni e ho vissuto la parabola diciamo della interpretazione di croce della figura di croce meno di quella di gentile ma della figura di croce nell'opinione colta croce era considerato come un dominatore delle passioni come un uomo sereno come un personaggio appunto che imponeva agli elementi della natura di stare al loro posto un signore della certezza e della sicurezza esistenziale ci è voluto del tempo perché io mi accorgessi non sono stato soltanto io naturalmente che questa immagine era la meno vera verissimo lo sforzo di croce di dominare le sue angosce quello che è stato chiamato il suo caos interno interiore verissimo ma bastava avere letto con un po' di intelligenza il contributo alla critica di me stesso per capire che il personaggio della serenità goetiana era un'invenzione non di croce ma di coloro che l'avevano letto in quel modo il contributo alla critica di me stesso è stato scritto nel 1915 mentre l'Italia stava per entrare in quella che lui chiama la fornace un'immagine mi pare di Vittor Hugo della prima guerra mondiale ma il contributo alla critica di me stesso è stato pubblicato nel 1918 a vittoria conseguita tre anni il contributo per tre anni è rimasto nel cassetto di croce e chi legge l'ultima pagina del contributo vede che cosa è stata l'esperienza di quel periodo nella vita di croce l'immagine del lago alpino battuto dal vento l'immagine riflessa che si compone e si riscompone è la sua immagine l'incertezza della sua esistenza in quel momento che doveva essere assolutamente ricomposto il vento doveva cessare le acque si dovevano calmare e allora si poteva di nuovo si poteva pubblicare il contributo e cominciare a vivere in un mondo ordinato il mondo poi non era ordinato dopo il 1918 era più disordinato che mai ma bisognava affrontarlo e a questo punto interviene il problema del rapporto con Gentile rapporto che comincia da tanti anni prima che è andato avanti attraverso una collaborazione autentica sincera a tutte e due le parti fra un personaggio di formazione filosofica che si era formato alla scuola degli scolari di Bertrando Spaventa il suo maestro era Donato Giaia il maestro di Gentile era Donato Giaia pregherei di non andare a vedere quello che Antonio Labriola diceva di Donato Giaia perché per buona educazione ma comunque Donato Giaia si riferiva certamente a Bertrando Spaventa un personaggio aspro astruso ma fondamentale fondamentale anche per croce fondamentale sebbene lo detestasse intellettualmente si capisce bene la ragione della rottura è filosofica è in primo luogo filosofica e perché è filosofica perché un personaggio che metteva in questione che metteva in questione con argomenti filosoficamente forti un sistema costruito con passione filosofica autentica con il quale croce aveva costruito uno strumento per l'interpretazione del mondo per l'interpretazione della poesia della filosofia della politica un sistema che dava innanzitutto una certezza esistenziale ma doveva essere naturalmente garantito in tutte le sue giunture logiche gentile era un avversario pericoloso da questo punto di vista era un filosofo molto agguerrito questo croce lo sapeva benissimo e sapeva benissimo che l'argomentazione gentiliana era una argomentazione difficile da controbattere sul piano filosofico quando croce dice direttamente al gentile nella seconda nella seconda lettera del 1913 la famosa discussione tra filosofi e amici che il suo sistema riprende un'osservazione della prima e ribatte il tuo sistema fiacca la distinzione tra il bene e il male e induce all'indifferenza etica quando gli rivolge questa obiezione quindi insomma è un'obiezione decisiva dal punto di vista è una rottura perché giustamente gentile si offende per questa la rottura avviene sul piano filosofico e avviene sul piano filosofico in quanto la filosofia per croce è una garanzia di certezza esistenziale e questo mi pare che sia il primo punto il secondo punto è che questo sistema dico le cose molto rapidamente naturalmente ognuna di queste mie affermazioni dovrebbe essere provata insomma e dibattuta sui testi il sistema subisce una prima prova con la guerra giustamente a mio modo di vedere croce prese assunza senza dichiararsi neutralista neutralista ma prese una posizione fortemente contraria all'entrata della guerra e abbiamo perfettamente ragione un paese debole appena costituito non si getta dentro appunto una fornace accesa dove si sarebbe distrutto dove è stato distrutto e non si è ancora ricostituito tra parentesi aveva perfettamente ragione ma quella guerra non era semplicemente una difficoltà per i cittadini era una difficoltà per il sistema perché c'era qualche cosa che poteva rompere questa armonia che era stata creata faticosamente e che era un'armonia logica perché naturalmente il sistema si fondava sulla coerenza logica delle parti allora la questione dei distinti la questione degli opposti il recupero della dialettica che gli hanno all'interno di un quadro che non era originariamente disposto per raccogliere tutto questo veniva messo fortemente in questione e questo croce lo ha avvertito lo ha avvertito a più riprese e ha sempre cercato negli anni successivi al 1915 e poi dopo la fine della guerra di risistemare il sistema in modo da renderlo coerente fino in fondo e sottrarlo alla critica che poteva essergli rivolta e che era per lui essenzialmente la critica di Gentile perché poi di altro ad altri filosofi non concedeva questo onore per così dire di metterlo in difficoltà a Gentile sì e il sistema poi conosce la crisi verso la fine della seconda guerra mondiale questo lo sanno tutti ma tutta la trasformazione che la sistemazione categoriale della filosofia dello spirito riceve nei volumi successivi è in funzione di questo cioè di rendere di vincere la insidia del negativo di dominare il negativo attraverso la struttura della direttica tutto questo come si sa spiega poi anche molte cose che altrimenti non si spiegherebbero per esempio ma perché Gentile avversa così profondamente un poeta come Leopardi e in fondo l'estetica di Croce andava benissimo perché un poeta come Leopardi adesso io parlo naturalmente del Leopardi poeta non parlo del Leopardi poi magari così insomma della percursore del materialismo storico o altre cose del genere ancora non era venuto sull'orizzonte un personaggio peraltro rispettabilissimo grande filologo come Sebastiano Timpanaro con alcune diciamo fissazioni nel campo della storia letteraria abbastanza singolari perché c'è questa avversione per Leopardi ma quella pagina che Croce scrive all'inizio del saggio su Leopardi in cui parla della vita strozzata ed è una pagina dove dice ma come sono così grande poeta lo tratti in questo ma è una pagina autobiografica è una pagina autobiografica è quello che la sua vita sarebbe stata se lui non fosse uscito fuori dalla casa di Silvio Spaventa non avesse riconquistato il contatto con la sua città non si fosse rimesso al lavoro nella sua città un lavoro quello che fosse perché all'inizio Croce faceva andava ricercando aneddoti nei teatri napoletani nella vita napoletana con grande eleganza ma senza assolutamente passione filosofica ma per darsi un centro per non disperdere la propria esistenza in mille cose dopodiché non sarebbe mai più stato possibile ricondurla alla sua origine questa è la ragione per cui un poeta come Lopaldi non entra nell'orizzonte di Croce e poi ci sono altre cose che si potrebbero dire certo l'amore per Goethe per Goethe era uno che stava con il diavolo insomma intendiamoci è un personaggio pericoloso poi da leggere ma è un dominatore ma è un dominatore e questo naturalmente andava bene per Croce che doveva dominare un mondo tumultuoso questo è stato capito da per esempio da Santoro De Benedetti quello che lo capì meglio di tutti e non lo disse fu rannato Serra fu rannato Serra quando disse che dietro il volto di Croce si indovinava un pensiero ignoto questo pensiero non era un pensiero filosofico ignoto era appunto questo sforzo terribile per dominare una materia di belle questo è stato Croce è gentile insomma il sistema di gentile può essere criticato ma in forma bisogna ragionare formalmente per criticare il sistema di gentile si può fare adesso per carità non voglio entrare in questo in questo argomento ma ha conosciuto il dramma della crisi dell'insicurezza gentile ma io credo di sì e credo che il momento della crisi si trovi in un libro difficile da capire che è stato letto essenzialmente per il violentissimo attacco che contiene alla filosofia di Croce libro che è stato scritto nel 1928 1929 ed è la filosofia dell'arte che non è un'estetica e non è neanche filosofia dell'arte è la filosofia dell'arte che significa come la filosofia si atteggia nel momento in cui lo spirito si dà come soggetto questo significa quel titolo ma a parte questo in quel titolo irrompe un concetto un protagonista che non si era mai visto prima o meglio era comparso ma era comparso in altro modo era stato preso e considerato dal punto di vista appunto della teoria dell'arte questo protagonista è il sentimento nella filosofia dell'arte il sentimento è un fondamento è qualche cosa che sta alla radice dell'atto cioè sta alla radice della radice e allora pensato attraverso la dottrina del sentimento il sistema di Gentile ha come un momento di un tremito quello che a me è sembrato singolare è che Gentile dopo il 1928 ha scritto parecchie cose naturalmente ha scritto dei bellissimi saggi filosofici ce n'è uno per esempio che è magistrale dal punto di vista dell'esecuzione filosofica addirittura una nuova dimostrazione dell'esistenza di Dio però il problema del sentimento in quel modo non è stato ripreso più non è stato ripreso più perché? eh beh perché poi Gentile l'aveva detto il mio sistema esce alquanto modificato in questo libro rispetto al sistema di logica di poi non tanti anni prima vorrei concludere in questo modo ho citato il sistema di logica il sistema di logica finisce con una citazione di Eraclito un frammento di Eraclito che dice pensare questa è la massima virtù c'è una variante c'è un autore che lo trasmette in un altro modo invece che di pensare insieme allora io vorrei concludere dicendo così perché ritengo che questi due pensatori siano rimasti avvinchiati l'uno con l'altro fino alla fine non si sono mai veramente staccati l'uno dall'altro vorrei dire appunto che a un certo punto ha prevalso il syn cioè l'insieme lo stare insieme poi però no non ha prevalso il syn io non credo che esista una parola greca come diafronein che parebbe un pensare che distingue che divide non credo che esista ho cercato nel Lider Scott non c'è questo ho inventato io ma c'è synfronein pensare insieme ecco questo è il punto critico non sono riusciti a pensare insieme e si sono divisi e l'amicizia quella che non ha a che fare con la filosofia anche se la filosofia è parte dell'amicizia quella non è rimasta perché naturalmente c'è stata poi una grande distinzione politica e tuttavia mi dispiace di ricordare una cosa mi è capitato qualche giorno fa presentando la biografia un pezzo della biografia crociana di Emanuele Cusinelli Rendina e ho ricordato ma non lasciamo 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 grazie dell'attenzione che abbiamo concluso i nostri lavori e volevo semplicemente chiedere alle curatrici se volevano ancora aggiungere stanno smobilitando e perché dopo c'è un c'è grossio grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti